Abbiamo deciso di presentare questa mozione per riportare a galla un simbolo come quello del presepe che nelle scuole, in particolare negli ultimi anni, è stato quasi nascosto se non addirittura vietato. Riteniamo che questo simbolo abbia un valore come il crocifisso che travalica il valore religioso in sé, ma vada ad abbracciare tutta una serie di principi che fanno parte della nostra storia, della nostra cultura e del nostro vivere sociale. Riteniamo quindi che un'azione della Regione e all'interno del Consiglio regionale per far sì che si stimolino i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado a ripristinare la presenza del presepe all'interno delle scuole e come Regione a finanziarne anche naturalmente la realizzazione sia doverosa e sia doverosa anche per riaffermare i nostri principi che andando avanti di questo passo e naturalmente vedendo il multiculturalismo sempre più presente all'interno delle scuole potrebbero andare persi. Grazie.